e allora buongiorno buongiorno amici buongiorno a voi tutti un abbraccio uno scaracchio uno scaracchio nell'occhio a voi tutti che uno scaracchio nell'occhio non si nega mai a nessuno guardatevi i video fatti mi raccomando e attivate il campanaccio in primis perché domani vi pubblico un video sul calciomercato della fiorentina veramente che noi andiamo veramente alle 11 30 vi invito a vederlo perché sarà un'esperienza anche papillare devastante un po come il nuovo bosco dello sport del venezia che io non ho quella struttura che mi rimbalza in testa e non penso ad altro mi sembra di essere stato rapito da degli alieni e essere portato lì o questi remind questo questa sensazione mi ha veramente devastato la vista di quella struttura quel futurismo edilizio edile tantissima cosa poi il 31 dicembre vi farò una sorpresa graditissima spero per l'anno 21 che sarà e però purtroppo c'è anche da menzionare la morte del caro edson arantes donna simiento pelè ok adesso il dubbio che fosse donna simiento che non faccio confusione con con un donna simiento ben più famoso ma penso sì che si chiamasse anche lui così e per me semplicemente il più grande giocatore della storia se si può se si può dire perché poi vengono i fanboy di questo di quell'altro il presepe le statue il dios di quei di là per me è stato pelè insomma giocatore se si può dire se posso 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 dirlo o ecco giocatore del secolo fifa tre mondiali di fila il padre insomma di tutti noi e di tutto il movimento calcio poi anche una bella persona sempre sorridente simpatico allegro proprio rappresentato appieno secondo me lo spirito brasileiro così del del giocabonito proprio una bella figura una bella presenza chiudo con la fiorentina perché poi adesso andiamo su passione fiorentina a portare un po di ignoranza anche lì e vi aspetto e tra poco però prima voglio dirvi una cosa c'è un solo attaccante che si può prendere a gennaio volete un centravanti volete rompete i con il centravanti ne volete uno solo volete il nome è uno solo ragazzi se volete il centravanti se volete fare del centravantismo e non potete farne a meno enzo crivelli enzo crivelli san enzo da crivelli quello voglio io quello voglio io volete un centravanti a gennaio non c'è altra strada solo lui noi belotti e devo leggere di belotti devo leggere e di altri no 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 non c'è non c'è niente non voglio niente l'unico possibile è enzo crivelli guardate che che estetica voglio fare la conference con enzo crivelli voglio fare la conference con san enzo da crivelli che oltretutto attaccante che in conference ha giocato giocato anche in europa league col basax air quando sono venuto nella vostra firenze stupenda a vedere fiorentina basax air sono intrattenuto con dei tifosi turchi fuori dallo stadio e la prima cosa che gli ho chiesto è proprio questa ho messo anche la storia sinistra mi ha chiesto forte enzo crivelli allora mi ha detto fortissimo pensate a fare la conference league con crivelli è una comfort zone non diventa più conference league che competizione giochi al giovedì io faccio la comfort zone come fai la comfort zone che cos'è è la conference league ma se la faccio con crivelli diventa la comfort zone non c'è altra strada fisicità personalità fomento estetica statura fisicità san enzo da crivelli volete il centro volete fare del centro avanti puoi fare del centro avanti vuoi del centro avanti solo io e te san enzo da crivelli anzi andate sui social di ambito fiorentina pagine ad intasare con il nome di san enzo da crivelli va bene facciamo lobbying facciamo lobbying sul crivellismo non c'è altra strada volete il centro avanti san enzo da crivelli trovate qualcuno che dice ma tu che centro avanti per enzo crivelli vi chiedono ma tua a natale cosa ricevo enzo crivelli a capodanno cosa fa enzo crivelli enzo crivelli bene